Cari amici e soci d'Italia Nostra, invio questa clip in occasione delle festività per augurarvi un Buon Natale e un sereno 2020. Mi auguro che il nuovo anno sia per la nostra associazione un periodo rinnovato slancio per la tutela e difesa dei nostri beni culturali e del nostro paesaggio. Le tante emergenze e fragilità della nostra penisola ci preoccupano, ma devono essere di stimolo per lavorare tutti insieme, con ritrovata unità di intenti e di metodo. Ogni sezione può dare un contributo fondamentale alla salvaguardia dei valori essenziali per il nostro paese, grazie alle competenze tecniche e culturali e alla passione civile dei direttivi e dei nostri soci, che sono la vera forza d'Italia Nostra. Un augurio da parte mia e da parte di tutto il Consiglio Direttivo Nazionale per il 2020, un 2020 che sia di vittoria per la nostra associazione.